Ragazzi miei siamo qui con Antoine, bella regà, il pazzo che canta in metro e adesso ci mostrerà i suoi tatuaggi insomma Allora iniziamo con il primo mio tatuaggio, questo è uno dei più importanti con i miei migliori amici Alle 21 da Pieri, questo l'ho pagato circa 80 euro Poi il secondo che ho fatto è sulla pancia, è la frase del mio film preferito che è Alice in Wonderland E c'è scritto, è impossibile solo se pensi che lo sia, questo l'ho pagato 100 euro Ok, questo è l'irite del mio occhio e il mio numero preferito che è il 17 Questo molto importante, è un serpente che arriva da qui fino a, potete immaginare, questo l'ho pagato circa 800 euro Questo qui circa, boh, 1000 euro 1000 euro di tatuaggio, è bello questo E poi c'è questo qua, questo qua, 1800, 2000 Mamma mia, questo è clamoroso ragazzi Questo ragazzi è clamoroso